Il nodo della stagione invernale del Nevegal sta per essere sciolto. È intenzione di Palazzo Rosso infatti partecipare con mezzo milione di euro alla fondazione di una società ad hoc che si occupi della gestione degli impianti sul colle, dato che per legge non è consentito il coinvolgimento del comune in una realtà con bilancio impassivo come quella dell'Alpe. Gli operatori turistici della zona saranno coinvolti nell'operazione, così come si prevede l'apporto dei comuni di Limana e Ponte nelle Alpi e possibilmente della Regione Veneto. Una nuova società a guida privata, perché deve essere un progetto di tipo imprenditoriale, che possa dare la garanzia del fatto che gli impianti rimangano aperti per vari anni. Siamo disponibili a farlo e lo facciamo con questo sforzo straordinario che aggiungiamo ai 500 mila euro, che invece sono i proventi del bosco, della rimozione degli schianti. La cosa importante è che la nuova società sia una società che ha una visione imprenditoriale basata sostanzialmente su due temi. Il tema della scuola di sci del Veneto, il Nevegal deve essere strategica come scuola di sci per tutto il Veneto, e per quanto riguarda l'estate deve essere il bike park più importante del Veneto. Noi vogliamo sviluppare un'idea di questo genere. Intanto gli operai sono sempre al lavoro per la pulizia dei sentieri e per l'esbosco dell'area devastata dal tornado di inizio novembre. Tra la popolazione serpeggia l'idea che il Nevegal al momento sia totalmente inagibile, cosa che il sindaco Massaro tiene a smentire. Da metà maggio c'è una ditta che sta lavorando, ha lavorato molto a rilento all'inizio a causa della neve, chiaramente a causa della pioggia battente. Ricordiamoci che il Nevegal comunque oggi è una località dove si può venire. Sono passati dei messaggi secondo me un po' forvianti. Dire che non c'è un sentiero che sia aperto, che funzioni, non è vero. Ci sono dei sentieri, ci sono le creste, ci sono varie passeggiate che possono essere effettuate. Certo stiamo liberando delle vie molto importanti dal punto di vista turistico, però ricordiamoci anche che cosa è stato vaia e quanto ha piovuto e quanto ha nevicato in questa primavera e inizio estate.